Le patologie della tiroide e della ipofisi sono state al centro del workshop dell'AME, associazione medici endocrinologi, che si è svolto a gizzeria e che ha registrato la partecipazione dei maggiori specialisti calabresi. La tiroide è una ghiandola che, se lavora troppo, ma anche se lavora poco, dà origine a delle disfunzioni che causano tanti sintomi e segni clinici. In particolare, la parte nodulare della patologia tocca in Calabria il 60-70% della popolazione. La patologia nodulare è una patologia prettamente benigna. Il 90-95% dei casi sono noduli benigni e solo il 5-10% sono noduli maligni che nella quasi totalità la patologia neoplastica viene curata. Sono patologie tumorali in cui la sopravvivenza è vicina quasi al 100%. Molto più rare di quelle tiroide sono le patologie ipofisarie. Le patologie ipofisarie sono patologie relativamente poco frequenti, ma ampiamente sottostimate. Una grande fetta di popolazione, infatti, può albergare una patologia ipofisaria e non arrivare alla diagnosi in tempi debiti. Succede così che la patologia può evolvere e quindi determinare sia una riduzione della qualità della vita, sia una riduzione dell'aspettativa della vita. Ma di tumore della tiroide si muore? Di tumore della tiroide oggi quasi non muore più nessuno. Un numero limitato di casi che sono il 10-15% arrivano ad una malattia molto avanzata e per questi oggi, grazie alla biologia molecolare, disponiamo di terapie mirate.